Di origine ermena, la famiglia Kardashian è una delle famose famiglie americane composta dalla madre Kris Jenner, le figlie Kim, Courtney, Chloe, Kylie, Kendall, il figlio Rob e il padre Robert Kardashian. Sono una famiglia che opera nel campo dell'intrattenimento, della moda e degli affari. Sono una delle famiglie periche del mondo. Oggi vedremo come la famiglia Kardashian spende tutti i soldi che ha, ma prima assicurati di iscriverti e clicca sulla campanella per non perdere nessuno dei nostri video. Cominciamo! Precedentemente sposati con Kanye West, Kim Kardashian e suo ex marito Kane hanno acquistato sei letti Saviol Royal Estate per 175.000 dollari ciascuno come parte della loro ristrutturazione della casa di Los Angeles. Un letto che richiede 700 ore o un mese intero per essere creato. Oltre a Kim e Kane, anche celebrità come Elton John e Oprah Winfrey possiedono il letto. Normalmente una carrozzina per bambini costa 300 e 200 dollari, ma Kylie sta permettendo a sua figlia Stormi, la cui foto ha ricevuto oltre 13 milioni di like in meno di 24 ore su Instagram, di fare un giro nella carrozzina da 12.500 dollari firmata Fendi. Questa carrozzina di lusso ospita un bambino che è molto più alla moda di molti altri modelli affermati. Vestito di rosa, l'interno del jet privato di Kylie presenta una vasca da bagno, diversi letti, una cucina ben attrezzata, arredi di lusso e grandi schermi. Ha comprato il jet per celebrare il lancio del suo nuovo marchio, Kylie Skin. Il nome del suo nuovo marchio è scritto in rosa sul jet. Per dare un tocco speciale che si adatta perfettamente all'architettura della loro nuova casa, niente è mai troppo bello ma anche troppo costoso per Kim Kardashian. Così, per la modica cifra di 750.000 dollari, le coppie dei suoi quattro nuovi gabinetti saranno placate in oro per uno stile di vita sufficientemente lussuoso. Con una fortuna stimata di 190 milioni di dollari, la nonna del Northwestern, vestita recentemente, conosce l'importanza di spendere saggiamente. Quindi spende solo un milione di dollari in vestiti, borse e scarpe di marca di lusso. Se si vuole descrivere la famosa Kylie, giovane e ricca, sono le parole giuste. Oltre a comprare case, è anche un appassionata di automobili, al punto da fare una collezione intera. La sua collezione comprende auto di lusso come la Ferrari Lafari Nera, che è costata quasi 1,4 milioni di dollari. La Ferrari 458, valutata a 250.000 dollari. La Ferrari 488, valutata a quasi 250.000 dollari. La Mercedes AMG G63, a 150.000 dollari. La Mercedes-Benz G550. 4x4 arancione, a 350.000 dollari. E la Bugatti Ciron, a 3 milioni di dollari. Una collezione totale di 14 milioni di dollari. L'ex coppia ha speso milioni di dollari, 40 milioni per essere precisi, per la loro proprietà in California. E 20 milioni di dollari per varie ristrutturazioni effettuate dal redatore belga Axel Werner. Così, per un totale di 60 milioni di dollari, abbiamo una casa da sogno con 8 camera da letto, 10 bagni e 20 piscine olimpioniche. La più giovane Kardashian possiede la Rolls Royce Drophead Coupé Bianca. Valutata a mezzo milione di dollari, ha un serbatoio di 6,5 litri, un motore V12 turbo e un'accelerazione automatica da 0 a 97 km orari in soli 3,5 secondi. Include anche un impressionante design interno. Quindi, è probabile che compriate tutte queste cose se aveste miliardi? Ditecelo nei commenti. Se ti è piaciuto il video, per favore metti mi piace per sostenerci. A presto! A presto!